Mi è capitato di vedere dei cigni neri qui in Italia e ne sono rimasto affascinato, anche perché questo animale è originario dell'Australia e della Nuova Zelanda, dove vive in laghi e fiumi con acque calme e ricche di piante acquatiche. Si tratta di una specie molto grande, che può raggiungere i 140 cm di lunghezza e un peso di oltre 10 kg. A differenza dei cigni bianchi, che sono molto più comuni e conosciuti, i cigni neri sono una vera e propria rarità in natura. Il piumaggio nero del cigno è molto suggestivo e conferisce a questo animale un aspetto elegante e maestoso. Tuttavia, il colore nero non è l'unica caratteristica che distingue i cigni neri dagli altri cigni. Questi uccelli hanno anche un becco di colore rosso, che si estende fino alla base del collo, e una macchia bianca sulla parte posteriore del collo. I cigni neri sono animali molto socievoli e si riuniscono in gruppi di diverse dimensioni. Sono anche molto territoriali e difendono aggressivamente il loro territorio da altri uccelli e animali. Nonostante la loro bellezza e il loro fascino, i cigni neri sono una specie a rischio di estinzione. La loro popolazione è in declino a causa della perdita di habitat, della caccia e della competizione con altre specie di uccelli. Per questo motivo è importante proteggere i cigni neri e garantire la loro sopravvivenza per le generazioni future.